Francesca D'Aloia, buonasera. Buonasera a voi. E benvenuta, davvero benvenuta qui nel posto delle parole. Grazie, bentornata. Bentornata, per corpi speciali, uscito due anni fa. Due anni fa, esattamente. Sempre per la nave di Teseo. Ricordo ai nostri ascoltatori che Francesca D'Aloia, scrittrice, attrice, regista, ecco, in quale funzione lei si sente più a suo agio, Francesca D'Aloia. Beh, senza dubbio l'ultima delle mie tante vesti, cioè la scrittura credo che ormai faccia parte totale della mia vita, è quello che ho scelto di fare. Anche gli altri lavori che ho fatto è difficile, mi viene, la sospendo quando dico, nell'utilizzare la parola lavoro. E perché? E perché chi scrive non lavora? No, soprattutto per il cinema, perché il cinema l'ho sempre vissuto come un divertimento, anche se poi è una dura fatica, però associare la parola lavoro mi viene difficile. Comunque, questo mio primo lavoro l'ho lasciato da parte perché ho sposato con grande fedeltà quest'ultimo impegno, che è quello della scrittura, che mi piace molto, mi riempie le giornate. E sì, se vogliamo, mi riguarda di più. Forse ne ha sempre riguardato, me ne sono accorta un po' tardi e adesso ho dato ascolto a un istinto che già era presente. E poi chissà, magari i libri di Francesca D'Aloia ritorneranno, che ne so, sul palcoscenico, ritorneranno, andranno in un copione cinematografico, chi lo può dire? Ma comunque è tutto legato, cioè comunque il lavoro di attore, l'attore ha a che fare con la parola, col testo, con gli scritti. Quindi non è così lontano poi come derivazione quella di voler scrivere. Fa parte di, se vogliamo, di un cerchio che si chiude e che quindi si può riaprire e poi ritornare dagli inizi. Magari fra qualche tempo mi ritornerà la voglia di salire sul palcoscenico e lo farò. Per adesso sto bene così, mi piace questo, mi piace quello che faccio adesso. È molto bello sentir dire mi piace quello che faccio adesso. Francesca D'Aloia, autrice di Spiriti, pubblicato dalla nave di Teseo nella collana Oceani. Io vorrei sofferbarmi, come mi sono soffermato diverse volte nel corso della lettura di questo libro, di questi racconti, sulle immagini di copertina, perché questa immagine attraversa pienamente, no? Pienamente queste storie. Che cosa ci dice questa immagine di Anne McGill? Spero di pronunciare bene. Sì, Anne McGill è una pittrice inglese che ho scoperto casualmente, penso un po' su Instagram, e mi sono innamorata dei suoi quadri che sembrano quadri ottocenteschi. Lei invece è una pittrice contemporanea che rappresenta sempre queste figure evanescenti, un po' annebbiate, nascoste nella nebbia, appunto delle evocazioni un po' degli spiriti, se vogliamo, quindi persone senza certa identità. Quindi mi sembrava l'immagine più adatta per rappresentare il mio libro. L'ho proposta alla mia editrice, al mio editore Elisabetta Sgarbi e lei subito ha apprezzato la scelta e quindi abbiamo scelto questa copertina. Ma allora su Instagram non ci sono solamente stupidaggini, quindi sentire dire queste cose credo che sia un avvalorare ancora di più questi posti che normalmente vivono una loro polarizzazione, no? Gli spazi socialisti come li chiamo io. Io su Instagram ho scoperto invece tantissime cose belle. Tanto è facile poi fare una selezione, cioè si va poi naturalmente verso qualcosa che ci riguarda, verso gusti similari, persone che hanno più o meno, magari persone che vivono in Australia, che però per qualche ragione hanno a che fare col tuo gusto, con le tue inclinazioni. Quindi piano piano si crea una piccola comunità, diciamo, di persone che hanno delle cose in comune e io seguo quelle persone lì. E questa figura è senza occhi, c'è una zona d'ombra e quindi da lì entra forse anche la capacità dell'essere misteriosa, questa immagine, vero Francesca D'Aloia? Sì, ma guarda anche lontano, è una persona che sta dritta verso qualcosa, che osserva qualcosa che noi non sappiamo cosa sia, ma forse lui sì, si tratta di un giovane uomo. Ed è un po', se vogliamo, questo sguardo verso orizzonti che più o meno tutti i personaggi, i 18 personaggi della mia raccolta hanno in comune. Se vogliamo, mi hanno chiesto in molti che cos'è che accomuna queste persone che ho deciso di raccontare. Deve esserci per forza qualcosa che li accomuna. Sì, sì, magari non è chiaro all'inizio, cioè la scelta non viene fatta, non è premeditata, non è fatta in funzione di un qualcosa che li accomuna, ma poi ti accorgi scegliendoli che c'è un filo conduttore. Il filo conduttore, secondo me, di questi personaggi è che sono stati tutti, sono andati alla ricerca della bellezza, hanno fatto dell'estetica, una ragione di vita. Siccome in questo senso io mi sento piuttosto simile a loro, penso che la bellezza sia un valore inarrivabile, ma assolutamente indispensabile e quindi la ricerca della bellezza sia necessaria, soprattutto tanto più in tempi come questi, queste persone hanno in un modo o in un altro, in maniera diversa, hanno cercato il bello, hanno cercato di produrlo, talvolta si sono fatti travolgere da questa, che in certi casi si è rivelata proprio una vera e propria ossessione, no? E quindi molti di loro si sono fatti travolgere da questa ricerca, da questa ossessione, ma altri invece no. Insomma sono tutte storie piuttosto, diciamo, con un finale o con anche un trascorso piuttosto drammatico, non sono mai persone felici che hanno raggiunto il loro obiettivo senza ostacoli, ma d'altra parte le vite interessanti sono anche quelle che riescono a combattere e a ottenere qualcosa con fatica, con sofferenza, sono poi delle delle ispirazioni in un certo senso. Io considero questi personaggi una continua fonte di ispirazione per me. E in che modo le sono venuti incontro questi personaggi? Ma infatti venire incontro è il termine giusto, perché se da una parte si crede di andarli, cioè io ho pensato di essermi messa alla ricerca di questi personaggi, poi mi sono accorta che forse alcuni sì, è vero, le ho trovati, ma trovando quelli, quegli stessi poi mi hanno portato ad altri. Come dicevo prima, si crea una forma di comunità soperranea, di anime che si assomigliano e per ragioni che magari non sappiamo bene, ma che ci sono, esistono, inconsce anche se vogliamo. Poi c'è un riconoscimento, per cui magari leggendo la poesia di Dylan Thomas poi mi sono accorta che quella poesia mi faceva pensare, che è un esergo per esempio che ho messo nel libro, cioè questi versi famosi di una delle più belle poesie di Dylan Thomas che dicono Rage, Rage Against the Dying of the Light, che vuol dire rabbia contro lo spegnersi della luce, che è questa invocazione di desiderio di vivere al cospetto di una morte imminente. E questo è un po', per esempio mi ha fatto pensare subito a Robert Louis Stevenson, che è uno dei personaggi dei miei spiriti, appunto uno degli spiriti guida, perché appunto sono degli spiriti guida, il quale pur di salute cagionevolissima, una persona destinata, se vogliamo, a trascorrere più all'interno che all'esterno la propria vita, più in un letto che su delle spiagge di isole tropicali, come poi invece è successo, che nonostante questo invece ha deciso di appunto Rage Against the Dying of the Light, cioè si è opposto all'inesorabile sorte che lo aspettava e prima ha cominciato a scrivere dei racconti, dei romanzi d'avventura e poi quella stessa avventura l'ha vissuta da protagonista, cioè la sua famosa Isola del Tesoro, poi lui l'ha trovata ed è andato, ha attraversato gli oceani ed è una storia quella di Stevenson che si conosce perché Stevenson, al contrario di molti altri, è notissimo, chi di noi non possiede un libro di Stevenson. Eh sì, però conoscere Stevenson è diverso, la sua storia è una storia umana particolarissima, umana, sentimentale, che non vuol dire guardare dal buco della serratura, ma entrare anche nel suo cervello, quello che lui chiamava, se ricordo bene, il teatro del cervello, quando andava a dormire e quindi è un personaggio la cui psicologia è a volte anche molto complessa. Sì, ma poi serve, cioè se è vero che da un lato uno scrittore quando scrive consegna la sua opera e quindi parla attraverso la sua opera e non c'è bisogno, si dice insomma che è l'opera che è importante, non tanto chi l'ha scritta, in certi casi, cioè questo non è sempre vero, perché in certi casi conoscere la biografia o alcuni lati o alcuni periodi della vita della persona che ha scritto quest'opera, che magari ci ha colpito, ci è piaciuto, serve a farcela capire meglio, non so, anche Richard Yates che è un altro degli scrittori di cui parlo, che è meno noto, naturalmente meno noto di Robert Louis Stevenson, però è un grandissimo scrittore che è diventato famoso, se vogliamo, abbastanza recentemente perché è stato tratto un film dal suo romanzo più importante, al suo primo romanzo che si chiama Revolutionary Road, fecero un film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, però Richard Yates è un grandissimo scrittore che ha scritto oltre a quel libro tantissimi altri libri con una vita sfortunatissima, un carattere difficilissimo e anche un destino letterario difficile, perché pur essendo americano è uno che ha sempre messo in scena la demolizione del sogno americano, cioè ha sempre rappresentato falliti, perdenti, personaggi anche talvolta abbietti, dei quali però ci si innamora subito, nonostante le loro meschinità, le loro bassezze, questo è segnale di grandezza, perché se tu riesci a fare amare un personaggio che non ha nulla per essere amato ed è un po' una trasposizione di quello che lui era nella vita, cioè lui era un misogino, si arrabbiava con tutti un ubriacone, un alcolista, uno che detestava l'umanità se vogliamo, però quelli che poi hanno avuto a che fare con lui, ad esempio gli studenti con cui lui faceva corsi di scrittura, lo hanno adorato e questa cosa si sente nei suoi libri e siccome, come molti, adesso si scrive sempre in prima persona, invece Richard Gates non aveva bisogno di usare il pronome io per parlare di sé, perché tanto parlava di sé attraverso tutti i suoi personaggi ed è interessante riconoscere quella parte di sé in quei personaggi, questo succede solo se conosci qualcosa della sua vita. Eh sì, conoscere qualcosa della vita di questi personaggi che sfidano davanti a noi, nei loro spiriti, nell'accezione più bella di questa parola, e andando a incontrare la letteratura, ma non solo, andando a incontrare anche la musica, mi sono ritrovato nel capitolo Chet Beck, la storia straordinaria di Chet Beck era un'altra storia di un perdente, di quell'uomo vecchio dal volto bambino, hai avuto l'occasione di ascoltarlo in concerto una sola volta, poco prima che succedesse quel momento farale in Olanda della sua scomparsa, è di dire che la persona di Chet Beck quando saliva sul palco era una persona che parlava pur nel silenzio. Ma sì, era un animo gentile che ha fatto di tutto per autodistruggersi, è l'unico dei miei racconti quello, se vogliamo, è l'unico che abbia una matrice anche un po' autobiografica. Molto personale questo. C'è stato questo episodio piuttosto particolare della presenza di Chet Beck nella casa che appartiene alla mia famiglia da sempre, sul lago di Sabaudia. Lui venne a trascorrere qualche giorno lì, ospite di mia sorella grande che è una grande appassionata di musica e quindi c'è il racconto di questa parte finale, se vogliamo, perché già il declino era già cominciato da tempo, ma insomma lì stavamo proprio verso le battute finali di questa permanenza di questo grandissimo artista che però appunto era ormai divorato dall'eroina e dall'autodistruzione appunto. quindi era bello raccontare, c'è questa fotografia che lo rappresenta di lui da solo seduto su una sedia nel giardino di casa mia ed è stata una cosa molto bella, insomma. Per il resto però appunto al contrario di Corpi Speciali, che è il libro che ha preceduto questo qui, che se vogliamo è un seguito appunto di Corpi Speciali, in Corpi Speciali avevo un po' diviso i racconti fra persone che avevo conosciuto, che avevano fatto parte della mia vita e invece persone che avrei voluto, avrei desiderato conoscerci. Quindi c'era una parte di me dentro dentro quel libro. Adesso mi sono tolta, mi sono messa più ad osservare e ad ascoltare. Sono più un'ascoltatrice e, ripeto, osservatrice, tranne che in questo caso dove c'è una piccola parte, diciamo, autobiografica. Per il resto sono tutti personaggi che ho incontrato, alcuni ai quali penso da tantissimo tempo. Per esempio la figura di Rembrandt Bugatti, uno dei membri della grandissima famiglia Bugatti di cui veramente si parla troppo poco e molti non sanno che attorno a questo nome famosissimo, perché Bugatti è un nome famosissimo, che però naturalmente viene associato alle automobili, ma pochi sanno che l'autore, appunto il designer di quelle strabilianti fantasmagoriche automobili aveva un fratello altrettanto straordinario, nonché un padre, che è il capostipide di questa famiglia di geni, che è Carlo Bugatti, che è stato un ebanista, creatore di mobili stranissimi che sono esposti nei musei più importanti del mondo, con delle forme antropomorfe, utilizzava dei materiali stranissimi tipo madre perla, corni, legni strani, insomma era un grandissimo artista e i figli sono Ettore appunto il creatore di automobili e Rembrandt un raffinatissimo scultore animalie, cioè di animali, che ha sempre e soltanto scolpito animali perché era una persona di una timidezza e di un refrattario proprio ai rapporti sociali, per cui passava le sue giornate, era un uomo molto elegante, altissimo e raffinatissimo e passava le sue giornate allo zoo a osservare gli animali, che erano gli unici esseri viventi con i quali si sentiva a suo agio e poi li riproduceva in bronzo, creando delle sculture straordinarie sempre di animali in movimento, cioè mai statici, stiamo parlando dei primi del Novecento, fino a quell'epoca la scultura cosiddetta animaliera rappresentava gli animali in forma statica, pensiamo alle statue equestri per esempio, quindi lui ha dato invece, ha cambiato, ha dato un movimento agli animali, poi è uscito diciamo di scena, nel senso che poi è arrivata la guerra, perché lui ha avuto un suo momento di fama, non fa parte di quegli artisti che vengono scoperti dopo, è stato scoperto in vita giovanissimo peraltro, un giovanissimo talento, poi però gli avvenimenti della guerra e molte altre cose lo hanno cancellato definitivamente, per anni e anni non si è saputo nulla di Rembrandt Bugatti finché Alain Delon, il famosissimo attore Alain Delon, è diventato il più grande collezionista e lui si freggia anche di questo titolo e ha ragione, da quel momento le valutazioni delle opere di Rembrandt Bugatti sono arrivate veramente a cifre stratosferiche, veramente stratosferiche e quindi è ritornato questo nome, però è interessante la storia proprio della famiglia Bugatti, di tutta la famiglia, sono uno più interessante dell'altro. Ma ci sono famiglie, ogni famiglia particolare, ma c'è una famiglia che io ho scoperto in modo teatrale attraverso delle lettere, questo lungo monologo di questa giovane donna malata, ma soprattutto malata di solitudine, la famiglia l'aveva messa in disparte, lei era la sorella di un fratello molto famoso, si chiamava il fratello Paul Clodel e la solitudine di questa donna Camille è una solitudine straordinaria e rivederla qui raccontata credo che sia necessario tirare fuori questo spirito di questa donna Francesca D'Aloia. Ma sì, perché intanto è davvero, infatti c'è una sorta di omaggio, anche di risarcimento nei confronti di persone che hanno sofferto, che hanno prodotto delle cose bellissime, sono state magari dimenticate. Anche qui, se vogliamo, Camille Clodel deve la sua rinascita, oppure il fatto che sia conosciuta, a un film, perché se ben ricordate qualche anno, una ventina anni fa, mi sembra ormai, fu fatto un film con Isabella Gianni e Gerardo Pardieu, che interpretava il ruolo di Rodin, appunto dello scultore, mentore e amante di Camille Clodel, ma fino a quel momento pochissimi sapevano la storia di Camille Clodel, che a sua volta fu scoperta perché un signore, un accademico, anzi uno studioso doveva produrre del lavoro su Paul Clodel, insomma stava studiando Paul Clodel e mentre indagava in archivi vari sulla vita di Paul Clodel scopre l'esistenza di questa sorella che è stata tenuta nascosta in un manicomio per trent'anni. Camille Clodel, per chi non lo sapesse, era una straordinaria e dotatissima scultrice che peraltro aveva scelto un lavoro che all'epoca era totalmente bandito alle donne, soprattutto per il fatto che gli scultori notoriamente plasmavano il nudo, rappresentavano il nudo e quindi che una donna potesse fare lo stesso veniva considerata una cosa non raccomandabile, per cui c'erano pochissime donne in scultura. Lei però aveva questa proprio indole, era già da bambina, modellava la creta, l'argilla, era proprio dotata e portata verso questo lavoro, fa di tutto per farlo, si trasferisce a Parigi, viene poi notata da Rodin che per un certo periodo è un maestro dell'accademia in cui lei studia e lei si innamora perdutamente di lui, anzi lui si innamora, prima è lui a innamorarsi di lei, molto più grande, un uomo già famosissimo, una gloria nazionale, lei è una giovanissima ragazza e però lui si accorge del talento che lei ha, ha un talento straordinario. Molte delle opere di Rodin in realtà sono state fatte anche grazie all'aiuto di Camille, cioè lui le faceva concludere per esempio le mani, che è notoriamente una delle parti più difficili per uno scultore. Questo rapporto poi è stato un rapporto, oggi si direbbe tossico, in termini che detesto, ma insomma rappresenta piuttosto bene il rapporto che ha legato questi due artisti. Lei aveva sicuramente dei problemi psichiatrici che oggi sarebbero curabilissimi, probabilmente aveva una forma depressiva, anche un po' psicotica, ma insomma non era così grave e lo dimostrano le lettere che lei dal manicomio scriveva incessantemente, implorando la famiglia di tirarla fuori da lì. Insomma lei a un certo punto della sua vita è stata proprio presa dalla famiglia, suo padre no, era l'unico che la difendeva dal fratello e dalla madre ed è stata chiusa in un manicomio e lì è rimasta per 30 anni. Fino alla fine, la fine è terribile perché morì di fame durante la guerra, perché ovviamente arrivando alla guerra avevano requisito, diciamo che quelli che erano chiusi nei manicomi erano l'ultimo dei pensieri delle persone che nel frattempo fuori morivano altrettanto di fame, per insomma erano più sotto l'occhio degli aiuti umanitari, se vogliamo, insomma gli ultimi dimenticati erano proprio i matti che stavano chiusi nel manicomio. C'è questa lettera terribile del direttore del manicomio che scrive al fratello, a Paul Clodel, che nel frattempo oltre ad essere un grande letterato accademico era anche un diplomatico, ambasciatore, quindi era una persona molto importante, e gli dice sua sorella sta morendo di fame, insomma fate qualcosa. Nessuno ha fatto nulla, tanto che il corpo di Camille Clodel è finito in una fossa comune. Insomma una tristissima storia che ricorda molto la storia di Lucia Joyce, cioè della figlia di James Joyce, anche essa talentuosa, nel suo caso ballerina, molto bella, adorata da questo padre, geniale, e anche essa con problemi psichici, che però poi alla fine, dopo la morte del padre, anzi no, il padre era ancora in vita, ma insomma è stata messa in un manicomio anche lei per trent'anni, è dimenticata lì. Anche lì c'è una madre e un fratello che la segregano, è strano questa simmetria. Francesca D'Aloia, prima di chiudere questa conversazione vorrei toccare due storie ancora, due storie che sono legate, sono due capitoli separati, ma sono due storie legate. Il caso vuole che alcuni giorni fa noi abbiamo raccontato qui nel posto delle parole il libro di Anna Folli intitolato Ardore, pubblicato da Neri Pozza, che racconta la storia d'amore tra Romain Garry e Jean Seberg, per dirla all'americana. Ecco, due vite che si sono unite, ecco, due vite completamente diverse, da una parte Romain Garry e dall'altra Jean Seberg, con una fine della vita totalmente brutta, nel senso che arrivano al suicidio. Ed è una storia che è molto toccante, la storia di queste due persone. In che modo queste due persone, Francesca D'Aloia, le sono venute incontro? Beh, allora, devo dire la verità, Romain Garry mi è venuto incontro perché una sera a casa di Bernardo Bertolucci, a cena con Bernardo Bertolucci e la sua bellissima rimpianta moglie, Claire Peplow, che erano i miei grandissimi amici, lei stava leggendo un libro di Romain Garry e si cominciava a parlare di questo libro, tu l'hai letto, sai come succede nelle conversazioni, diciamo, a cena fra amici? Io non avevo letto questo libro e quindi lei comincia a parlarmi e mi incuriosisco. Io conoscevo Romain Garry ma non avevo letto la sua opera, ma soprattutto non conoscevo la storia di Romain Garry perché al di là della storia del letterato, cioè dello scrittore, delle opere che lui ha scritto, la cosa veramente avvincente è la vita di Romain Garry, il quale è un uomo che è stato abitato e posseduto dall'ambizione di diventare uno scrittore importante, di diventare importante non importa in cosa, perché cresciuto da una madre ambiziosissima e poverissima che in Russia lo aveva allevato con l'idea di essere figlio di un grande attore, invece lui era figlio di un uomo qualunque che aveva semplicemente abbandonato la famiglia, quindi lui ha cominciato a raccontarsi storie inventando aneddoti inesistenti sulla propria infanzia e poi ha continuato, cioè le identità diverse di Romain Garry hanno cominciato a nascere sin da giovanissimo perché ha cominciato a scrivere i primi libri, poi ha cominciato a usare pseudonimi, ne ha usati parecchi, quindi la storia che poi lo riguarda, che è il clamoroso caso di truffa, forse il più grande caso di truffa mai accaduto nel mondo della letteratura, viene proprio da lontano, viene da questo bisogno di cercare un'identità diversa, nel questo caso lui a certo punto, dopo aver vinto il più prestigioso dei premi letterari francesi, cioè il premio Goncourt, lo vinse due volte, esatto, lo vinse una prima volta sotto il suo nome Romain Garry, che peraltro non è il suo vero nome neanche quello, poi come succede spesso, negli anni successivi venne messo da parte, come succede, cominciava a invecchiare, diciamo che l'attenzione non era più rivolta a lui come lui avrebbe desiderato, per cui cosa fa Romain Garry? Si inventa un altro, un alter ego, si inventa un altro scrittore e pubblica un altro libro, con un titolo, con uno stile anche di scrittura totalmente diverso, questo scrittore si chiama Emile Ajar, e cosa succede? Che questo scrittore, lui perde un po' il controllo, perché questo scrittore ha un successo straordinario, tanto che viene candidato al premio Goncourt, anche lui, allora lui lì comincia a spaventarsi, perché siccome tanto è vietato dal regolamento vincere due volte il premio Goncourt, e siccome lui, appunto, Emile Ajar non esisteva, non esiste, era Garry il vero autore, non sa come uscire da questa cosa, perché sente che il cerchio si stringe sempre di più, allora decide di inventarsi un vero Emile Ajar, e assolda un suo cugino di secondo grado, Pavlovich, e gli dice, senti, guarda, devi recitare il ruolo di Emile Ajar, lo istruisce su cosa deve dire o meno durante le interviste, e così si inventa questo alter ego. Insomma, per farla breve, questa invenzione, che prima è letteraria ed è solo appunto un nome, poi diventa anche una persona, prende il sopravvento su tutto quanto e su tutti quanti, cioè lui si fa travolgere dalla sua stessa invenzione, e lo stesso Pavlovich, il quale doveva essere una pedina nelle mani del demiurgo Romangarì, ci prende gusto appunto alla fama, al prestigio appunto vincendo poi questo premio, e quindi divora a sua volta il suo padrone, diciamo il suo inventore. E allora, adesso vi suggerisco di leggere, perché veramente le montagne, io le ho definite delle montagne russe, perché è talmente incredibile questa truffa che viene ordita ai danni del prestigioso e serissimo premio Goncourt, che davvero merita, finisce in maniera drammatica, ovviamente finisce in maniera drammatica, come ha detto lei prima, cioè Gary poi si toglie la vita, così come ha fatto anche Gene Seberg prima di lui. Quindi è un finale drammatico, però è il finale di un uomo che non riesce più, ha perso il controllo di sé, e ha diviso se stesso in talmente tante facce, talmente tante nomi, talmente tante personalità, che alla fine si perde. Alla fine si perde, e lo scopriamo come si perdono queste persone e le altre persone in questo libro di racconti di Francesco D'Aloia Spiriti. Ma c'è il libro a portata di mano per chiudere la nostra conversazione? Io ho il libro a portata di mano? Sì, lei ce l'ha vicino a sé. Sì, sì. E allora a pagina 204 ci legge questi straordinari versi di un certo Rainer Maria Rilke a soli 22 anni. A pagina 204? Sono sul computer, per cui lo sto cercando, ma ci sto. Ah beh sì, il vento che trasforma il mondo, è il titolo di questo, di questo racconto di Francesco D'Aloia. Il racconto appunto di Lou Salomé. Eh sì. È straordinario. Lou Salomé è un altro, eh sì, lei è un altro personaggio davvero, davvero straordinario. Il straordinario in questo senso, veramente il termine, il termine più adatto. È una donna che ha fatto innamorare di sé tre geni che tremano i polsi solo a nominarli, cioè Nietzsche, Friedrich Nietzsche, appunto Rainer Maria Rilke, e Sigmund Freud, ecco, tanto per dire. Rainer Maria Rilke lo conosce, lui è giovanissimo, lei è più grande di lui, lui perde la testa per lei e le scriverà questa poesia a soli 22 anni, che è questa. Spegni i miei occhi, io ti vedrò lo stesso, sigilla le mie orecchie, io potrò udirti, e senza piedi camminare verso di te, e senza bocca tornare a invocarti. Spezza le mie braccia e io ti stringerò con il mio cuore che si è fatto mano, arresta i battiti del cuore, sarà il cervello a pulsare, e se lo getti in fiamme, io ti porterò nel flusso del mio sangue. Francesca D'Aloia, autrice del libro Spiriti, pubblicato dalla nave di Teseo, ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? È un libro straordinario, che è Viaggio al termine della notte di Céline. Come mai questa scelta? È una lettura o una rilettura? È una rilettura perché l'avevo cominciato e poi abbandonato all'età di 20 anni. È un libro che infatti a 20 anni forse non si può leggere, e che ho ritrovato su una bancarella a Parigi, ed era la stessa identica edizione che avevo da ragazza. Io lo leggo in francese perché ho fatto la scuola francese da ragazza, per cui diciamo che l'educazione alla lingua e alla letteratura che ho avuto è prettamente francese. Quindi avevo abbordato Céline, come si si abbordano i grandi della letteratura, ma abbandonato. Poi l'ho ritrovato appunto e sono precipitata dentro quel vortice pirotecnico di odio e di talento che però esprime Céline, che è inarrivabile, soprattutto inarrivabile nella lingua. Cioè il francese scritto da Céline infatti è molto difficile da tradurre Céline, è molto difficile perché ha un suo modo di esprimersi che è solo suo. E poi è un uomo che è talmente abitato da un risentimento che è un sentimento negativo infatti diciamo nella sua vita non è certamente un uomo come si dice raccomandabile ma questo però questo odio ha creato perché spesso l'odio è produttivo, ha creato comunque delle opere d'arte, un'opera d'arte almeno questa che è il suo primo romanzo davvero davvero strepitosa e quindi sono siccome è un librone lo leggo piano piano sono arrivata alla fine purtroppo. Grazie davvero del tempo che ci ho dedicato Francesca D'Aloia e buonasera. Grazie a voi alla prossima buonasera Grazie a tutti.